Fra le collezioni librarie della biblioteca si distinguono alcuni fondi di notevole interesse storico. La biblioteca personale del professor Vincenzo Cavallari, preside della Facoltà di giurisprudenza dal 1973 al 1979, riflette la figura di studioso eminente del processo penale, di politico e di docente universitario. Nel 2003 la biblioteca riceve la donazione della famiglia Cavallari, che è costituita da 2490 volumi e da 571 annate di riviste giuridiche. La biblioteca del senatore Luigi Preti, politico, avvocato ed esponente del Partito Socialista Democratico Italiano, consta di oltre 9000 documenti, fra libri e riviste, tuttora in corso di catalogazione. I volumi donati nel 2006 sono organizzati secondo precise sezioni tematiche che ricalcano la struttura della classificazione di UI. Molte sono le carte manoscritte e dattiloscritte rinvenute all'interno dei volumi con commenti personali del senatore Preti. Negli anni 50 il senatore Giovanni Martinelli, rettore dell'Università di Ferrara, dona alla biblioteca un fondo che include molti testi antichi, arricchendo così il patrimonio librario.